Grida e getta il panico tra la gente nel quartiere La Tonnara di Palmi. Tutto in pochi minuti quando un cittadino marocchino ha minacciato con una bombola a gas le persone che si trovavano in quel momento sul lungomare della cittadina tirrenica. Mohamed Al-Araki, di 32 anni, dopo il primo tentativo di far esplodere la bombola, è stato fermato da alcuni residenti e poi dai carabinieri. Davanti ai militari in caserma ha dichiarato di essere lui il prescerto in crisi davvero di grande follia. Il marocchino che viveva in un'abitazione insieme ad altri quattro connazionali senza alcun permesso è stato raggiunto dal provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza. Lo stesso è stato subito condotto al CPR di Bari in attesa che venga rimpatriato. Stessa sorte è toccata ai quattro connazionali di Al-Araki. L'abitazione concessa in fitto senza alcun contratto è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria.